Eccoci buonasera, molte notizie. C'è un secondo complice, il nono uomo del commando insieme a Salah in fuga. Questo è quanto emerge nelle ultime ore dagli ambienti investigativi francesi. Ma poi vedremo, ci sono due altri fatti nell'ultima ora. Hannover ha evacuato lo stadio, ha annullato la partita tra Germania e Olanda. La psicosi o forse il pericolo reale supera i confini tra la Francia e la Germania. E vedremo anche che dall'Iraq arriva un video molto sofisticato di rivendicazione da parte dell'Isis di tutte e due le stragi. Quella di Parigi ma anche quella dell'aereo russo. E proprio per la vicenda dell'aereo russo su cui a quanto pare solo in queste ultime ore l'antiterrorismo di Mosca ha avuto la conferma che c'era un ordigno a bordo. Putin ha detto che abbiamo diritto in base alla carta dell'ONU di reagire. Ha subito intensificato e di molto i bombardamenti sulle postazioni ISIS in Siria. Da parte sua Hollande ha fissato due incontri importanti nelle prossime giornate a cavallo dell'inizio della prossima settimana con Obama e con lo stesso Putin. Si cerca di mettere insieme insomma il fronte militare anti-ISIS. E dall'Europa al Presidente francese è arrivato quell'aiuto che aveva chiesto a norma dell'articolo 42.7,7 del Trattato dell'Unione Europea. Il sì unanime per bocca per altro dell'alto rappresentante Federica Mogherini. Ma cosa vuol dire che dovremmo aiutare militarmente, partecipare a un conflitto? Vedremo di capirlo. E Renzi mette molta acqua sul fuoco, non parliamo proprio di guerra, mentre continua ovviamente il dibattito in casa nostra su questi temi. Come vedete c'è tantissimo, ma vedremo anche che Parigi tenta di tornare alla normalità. Lo vedremo in diretta. E poi insieme a tutto questo anche le notizie che riguardano il nostro Paese, la pagella che ci ha dato l'Unione Europea. Eravamo stati troppo ottimisti? Sicuramente siamo stati rimandati ad aprile. C'è rischio di sforamento nei nostri conti. Ma come vedremo poi anche ci sono altre novità, tra cui voglio ricordare il referendum online dei Cinque Stelle che ha tolto il nome di Grillo, su richiesta dell'interessato, dal simbolo del movimento stesso. E spero proprio avremo tempo di ricordare una grande firma del giornalismo, Mario Cervi, che se n'è andato. E resta ancora da dirvi che il video dell'Isis di cui vi ho parlato, che ha in copertina anche il Colosseo, oltre al Big Ben e alla Tour Eiffel, l'abbiamo visto, non è trasmissibile. Vi faremo vedere soltanto la sua copertina e alcuni passaggi. Quello che è significativo è che è in francese e in russo, proprio le lingue dei due paesi che sono stati colpiti. Tra poco, tra 30 secondi, vedremo insieme i titoli del nostro giornale. Continua senza sosta la caccia al killer Salah Abdeslam, ma accanto a lui ci sarebbe anche un altro uomo del comando, di cui fin qui non si era avuta notizia. Anche lui fuggitivo, direttamente coinvolto nelle stragi. Sarebbe nel gruppo di fuoco che aveva sparato nei due ristoranti dell'undicesimo arrondissement di Parigi. E come vedete, questa è la copertina. Ci è appena arrivata del video di rivendicazione dell'Isis, che è stato diffuso in Iraq per rivendicare gli attentati di Parigi, ma anche l'abbattimento, l'esplosione dell'aereo russo sul Sinai. Nella fotografia, che non vedete sotto la didascalia, ci sono, eccola qua, vedete, ci sono sia il Big Ben, sia la Tour Eiffel e sia il Colosseo. Un avvertimento? Hollande si muove come un presidente di paese in guerra. Da una parte continua i bombardamenti su Raqqa, dall'altra prepara la strategia contro l'Isis. Oggi incontrato Kerry, segretario di Stato americano all'Eliseo, sarà da Obama il 26, ma due giorni prima Mosca incontrerà Putin. Un Putin che si sente ora legittimato a intensificare gli attacchi in Siria dopo la certezza che l'aereo russo esplose per una bomba. L'Unione Europea intanto risponde positivamente alla richiesta d'aiuto della Francia e per la prima volta sarà applicata la clausola del Trattato di Difesa Collettiva di Lisbona. Renzi resta però prudente. Contro i terroristi non bastano le azioni militari, ci vuole strategia. Tutto possiamo permetterci, tranne che una Libia bis. Possiamo dire che Parigi intanto con molta fatica tenta di recuperare la normalità, ma questa sera un altro elemento di forte turbativa arriva dalla notizia dell'evacuazione, mentre le immagini non riguardano questo, dell'evacuazione dello stadio di Hannover dove si doveva giocare un'altra partita importante, la Michele, tra Germania e Olanda. Va bene, ma ora ci sono i conti, lo sforamento dei conti di cui vi ho parlato, lo sforamento dei conti italiani. Secondo Moscovici l'Italia rischia di trovarsi fuori conti di bilancio, ma dall'Italia si rassicura. La verità la sapremo a aprile. Titoli un po' incartati, ma scusate, davvero abbiamo cercato di mettere le notizie fino all'ultimo minuto e ce ne sono, come vi ho detto, almeno due che sono proprio di pochi istanti fa, sia lo sgombero dello stadio di Hannover in cui si doveva disputare un'altra amichevole e importante, ancora con la Germania, come era successo venerdì a Parigi, ma come ospitante dell'Olanda, un allarme alla bomba o anche l'allarme per il rischio di un'azione di comando, sul tipo di quello terribile che ha fatto sfiorare una strage ancora più grave venerdì, mentre la strage, come sappiamo, che ha provocato il maggiore spargimento di sangue fu quella nel locale di Musica. Ma l'altra notizia riguarda l'Isis, possiamo forse già farvi vedere, non lo so, almeno la copertina, il manifesto di quel video di rivendicazione che è stato diffuso in Iraq dall'Isis, che nonostante quella scritta che vedete in inglese, in francese e in arabo, e poi il video che abbiamo dovuto vedere in cui ci sono dei passaggi francamente raccapriccianti da ogni punto di vista, abbiamo visto pochi minuti fa, è in francese e in russo, proprio le lingue dei due paesi che, ecco, qui stiamo vedendo alcune delle immagini, è la lingua dei due paesi che sono stati colpiti, prima con l'esplosione in volo, come sappiamo, dell'aereo di linea russo sul Sinai e poi con quello che è successo venerdì sera, che ben sappiamo, a Parigi. Queste sono le immagini, ma solo queste vi facciamo vedere, perché poi si passa all'attività preferita e terribile dell'Isis, dei tagliateste. Andiamo a vedere però come, riguardo proprio alle indagini sul venerdì di sangue della capitale francese, ci siano delle novità. La notizia è di pochi istanti fa e la riporta le parisiennes. La polizia francese ricerca un secondo attentatore in fuga, sarebbe dunque il nono uomo e avrebbe partecipato alla sparatoria contro i ristoranti dell'undicesimo a Rondissimont, insieme ai fratelli Abdel Slam. Uno dei quali, il 26enne Salah Abdel Slam, ottavo componente del commando, kamikaze mancato nella strage al Bataclan, è braccato da 48 ore dalla polizia di mezza Europa. Gli inquirenti lo definiscono molto pericoloso. I servizi di intelligence del Belgio sono in possesso di informazioni fondate sul fatto che Salah, stia preparando un attentato nel paese, riferisce un giornale belga, vuole morire come un martire. Arrenditi è l'appello in tv rivolto a Salah dal fratello Mohamed. I miei fratelli, spiega, dissero che sarebbero andati a sciare. Venerdì sera però era stato proprio Salah ad accompagnare a bordo di una seat nera in un caffè di Boulevard Voltaire Ibrahim, il terzo fratello, che si è fatto poi esplodere. Due giorni prima del massacro, secondo il settimanale Le Point, Salah avrebbe prenotato due camere in un albergo della Banlieue di Alfredville, dove la polizia ha trovato siringhe, aghi corti e fili da intubazione, usati per confezionare le cinture esplosive. Nelle stanze gli agenti hanno prelevato tracce del DNA. Sempre oggi la polizia ha ritrovato a Parigi una Renault Clionera, che era stata affittata da Salah e che quindi si sospetta sia stata usata per gli attacchi. In questa fase di allarme paneuropeo, ad Alstorff, vicino ad Aquisgrana, in Germania, sono state fermate sette persone, tra le quali due donne che si ritenevano coinvolte con le stragi di Parigi. In tardo pomeriggio però, la polizia tedesca ha subito rilasciato tutti i fermati, perché non avrebbero alcun legame con gli attentati. Fin qui le notizie sulle indagini, ma vediamo come l'attività di Ollanda abbia portato a un passaggio politico fondamentale nella diplomazia con gli appuntamenti con Obama e Putin, ma anche e soprattutto con i bombardamenti su Raqqa, ancora una volta e non soltanto in Siria. Vedremo poi come a dare via libera al presidente francese, anche dal punto di vista militare, sia stato il sì dell'Europa. Le bombe su Raqqa e la strategia con gli alleati. La Francia è un paese in guerra, aveva detto ieri, Ollande, e come tale si muove in queste ore. La roccaforte siriana dell'Isis si prepara alla terza notte di bombardamenti. Le decine di raid dell'aviazione francese la notte scorsa hanno distrutto un centro di comando e un campo di addestramento militare. E adesso che su quel fronte si è aggiunta la potenza militare russa con bombardamenti dal mare e dal cielo, i racconti degli attivisti anti-Isis dalla città bombardata descrivono i miliziani di al-Baghdadi in fuga come topi. Ma è sul terreno diplomatico che l'attivismo francese di queste ore fa comprendere come la sfida dell'Isis alla Francia e alla comunità internazionale sia ormai ad un punto di non ritorno. Ollande, oggi in rapida successione, ha incontrato all'Eliseo il segretario di Stato americano, John Kerry, ha parlato al telefono con il presidente iraniano Rouhani e con Putin. Tra una settimana esatta sarà a Washington da Barack Obama e due giorni dopo a Mosca dal presidente russo. L'intenzione di distruggere l'Isis, dichiarata ieri apertamente davanti al congresso francese, è già nella sua fase attuativa. Abbiamo discusso sui passi significativi da intraprendere assieme per essere ancora più efficaci contro l'Isis. E Kerry a parlare. Nelle prossime settimane l'autoproclamato Stato islamico sentirà una pressione ancora più forte. dobbiamo intensificare i nostri sforzi per colpirli al cuore, lì dove pianificano queste cose. E la coalizione anti-Isis ha aggiunto oggi un tassello molto importante perché l'Iran è pronto anche a una cooperazione di intelligence con la Francia contro il terrorismo. Lo ha sottolineato il presidente Hassan Rouhani nella sua conversazione telefonica con il presidente francese. Nello stesso tenore, anche la telefonata tra Eliseo Kremlino, Hollande e Putin si vedranno presto ma intanto i loro apparati militari e di intelligence sul terreno si muovono già in collaborazione e coordinamento. Sullo sfondo però il pericolo di nuove azioni terroristiche è sempre molto alto. Così il premier Valls all'Assemblea nazionale francese ha rivelato che altri attentati sono senza dubbio in preparazione. Come vi dicevo un'altra notizia dell'ultima ora è costituita dal fatto che a Hannover dove era in programma oggi è giornata di amichevoli di calcio come lo era proprio venerdì a Hannover dove era in programma una partita con la Germania e tra l'altro la Germania era già venerdì a giocare con la Francia allo Stade d'Efrance che fu uno degli obiettivi dei terroristi la Germania doveva ospitare l'Olanda in gran fretta è stato sgomberato delle decine di migliaia di spettatori che c'erano già entrati lo stadio di Hannover per quella che gli inquirenti hanno chiamato una minaccia concreta si stanno compiendo per lustrazione in tutte le zone sono stati visti un pacco sospetto a quanto si è saputo e degli individui sospetti adesso si sta cercando in tutto l'amplissimo fronte dei parcheggi di auto una vettura in particolare ma ripeto gli inquirenti hanno parlato di minaccia concreta la Francia abbiamo visto ma anche la Russia la Russia nel mirino del terrorismo islamico perché anche i russi hanno bombardato in Siria le postazioni dell'ISIS e la Russia che ha deciso di reagire prendendolo a spunto dall'ufficializzazione del fatto che a far esplodere quell'aereo in volo sul Sinai quell'aereo russo è stata una bomba siamo stati aggrediti abbiamo diritto alla rappresaglia lo prevede l'articolo 51 dello statuto delle Nazioni Unite perché quello del Sinai è stato un atto terroristico la Russia non ha dubbi il suo presidente non è all'agente di Russia in strada appare al suo fianco dice questa persona sì la lotta al terrorismo va intensificata avete visto Parigi la Siria l'aereo si sta allargando in tutto il mondo la vendetta è inevitabile i terroristi dovranno capirlo Vladimir Putin oggi è un fiume in piena chiede collaborazione a chiunque si senta a lui alleato nella battaglia contro il terrore dei gruppi jihadisti sedicente stato islamico in testa da oggi ci sono anche 50 milioni di ricompensa per chi potrà dare informazioni favorire l'arresto di chi ha pianificato e portato a termine l'azione di Sharm el Sheikh solo le autorità egiziane continuano a non confermare che a far cadere l'Airbus diretto a San Pietroburgo sia stata l'esplosione di un ordigno nascosto tra i bagagli secondo rilevamenti di tecnici russi ed inglesi la commissione internazionale però non ha ancora detto la parola conclusiva ma se Mosca con la decisione presa in pratica ne ha già diffuso la conclusione c'è da pensare che quella della bomba sia davvero la causa della morte di 224 cittadini russi un ordigno confezionato a quanto pare con un chilo di tritolo sufficiente a far strage nel cielo egiziano oggi si era diffusa la notizia dell'arresto di due dipendenti dell'Euroscalo di Sharm poche ore ed è arrivata la smentita delle autorità del Cairo intanto proprio in considerazione di quanto accaduto e della crisi in corso tutti gli scali egiziani sono sotto strettissima sorveglianza e così sarà ancora per settimane dicevamo della richiesta di collaborazione avanzata da Mosca per il caso dell'Airbus appello incastonato nel messaggio lanciato da settimane da Vladimir Putin stesso in fatto di lavoro in comune contro il terrorismo lavoro necessario da anteporre a dissensi altri problemi entrato in scena insomma Vladimir Putin sembra non volerne più uscire l'accordo con la Francia ne è la dimostrazione più lampante come del resto l'uso di missili lanciati da sottomarini e di 25 bombardieri strategici a lungo raggio partiti da Mosca per colpire l'Isis in Siria ed Iraq dicono dal Pentagono stavolta i russi sembrano fare davvero sul serio e fa sul serio come abbiamo visto anche la Francia grazie pure al Via Libera sollecitato ieri da Hollande citando un articolo il 42,7 del trattato dell'Unione Europea il sostegno attivo dei paesi dell'Unione Europea sostegno attivo che è stato solennemente promesso oggi ieri il Presidente Hollande ha chiesto aiuto e assistenza sulla base dell'articolo 42,7 dei trattati e l'Unione Europea ha unanimamente dato il suo pieno forte e immediato supporto appare soddisfatto il Ministro francese Jean-Yves Le Drian al termine dell'incontro con gli altri responsabili della difesa europei e l'alto rappresentante Federica Mogherini la Francia sembra aver ottenuto ciò che Hollande aveva evocato ieri l'applicazione della clausola di difesa collettiva quella appunto citata da Le Drian l'articolo del trattato di Lisbona dice che in caso di aggressione armata uno Stato membro dell'Unione può chiedere supporto e aiuto agli altri Stati per Federica Mogherini che ha coordinato la riunione dei Ministri l'applicazione della clausola va vista prima di tutto come un atto politico compiuto per la prima volta nella storia dell'Unione ma dal significato ancora tutto da definire per cominciare gli accordi saranno bilaterali ogni singolo paese fornirà sostegno alla Francia sulla base delle proprie possibilità tutti gli aiuti saranno coordinati dall'Unione nello specifico i 28 Ministri della Difesa non sono ancora entrati si può anche ipotizzare che qualcuno sia in grado di dare supporto logistico alla campagna francese in Siria e Iraq mentre appare più difficile che Parigi abbia bisogno in quei teatri di uomini e mezzi potrebbe invece accadere che la Francia chieda agli stati dell'Unione di sostituire i propri soldati impegnati nelle missioni internazionali si tratta di luoghi caldissimi come il Libano dove nel contingente ONU-UNIFIL a comando italiano ci sono più di 800 militari francesi del Mali dove quasi 2500 militari dell'operazione Serval quasi tre anni fa fermarono l'avanzata dei gruppi jihadisti che avevano già occupato la parte nord del paese istituendo un regime di terrore ci sono infine 900 francesi nella Repubblica Centroafricana dove dopo il golpe del 2013 regna l'instabilità e dove a fine mese è prevista la visita di Papa Francesco che proprio dalla porta santa della cattedrale di Bangui vuol far cominciare il giubileo appena due giorni prima degli attacchi di Parigi i servizi francesi avrebbero caldamente consigliato al Papa di rinunciare al viaggio ma tutte queste notizie l'adesione dell'Unione Europea alla richiesta della Francia avvicinano quello che è uno scenario con cui dobbiamo fare i conti ci sarà una guerra alla quale parteciperemo Renzi tenta di mettere il più possibile acqua sul fuoco noi non siamo prudenti noi stiamo ricordando a noi stessi qual è il nostro ruolo storico in questa vicenda noi siamo determinati contro il terrore ma sappiamo che le reazioni producono le Libie bis e tutto ci possiamo permettere tranne che una Libia bis abbiamo bisogno di una strategia una reazione agli attacchi è comprensibile ma non basta Matteo Renzi ripete la posizione dell'Italia nella lotta al terrorismo capisco chi utilizza la parola guerra ma io non la uso spiega il Premier anche se aggiunge che è evidente che quello di Parigi è strutturalmente un attacco militare per me quello che è in corso è un gigantesco una gigantesca aggressione all'idea stessa della nostra identità una prudenza che Renzi colloca nella tradizione italiana che nelle parole del capo del governo è fatta più di soft power che di hard power non è fatta di dichiarazioni roboanti nessuna fuga in avanti nessuna partecipazione italiana ai bombardamenti in Siria il ministro della difesa Pinotti che l'aveva annunciata ha dovuto correggere il tiro escludo un intervento in Siria e non escludo il rafforzamento dell'intervento in Iraq nel senso che noi stiamo rafforzando il nostro intervento in Iraq il non detto è la volontà di evitare un'esposizione eccessiva nel nostro paese per cercare di tenerlo fuori da possibili attacchi terroristici tanto più con il giubileo alle porte ma non esiste un livello zero di rischio nessun paese ne esente dice il ministro dell'interno Alfano al senato nell'informativa del governo sui fatti di Parigi agiremo assieme ai nostri fratelli francesi assicura il ministro di essere i gentiloni combatteremo non dichiarando guerra all'Islam ma ai fondamentalisti ma dal centrodestra chiedono al governo un impegno più concreto contro l'ISIS serve un intervento militare immediato dice il livelleghista Salvini più o meno sulla stessa linea forza Italia non offriamo del nostro paese la solita immagine di partner mai davvero fino in fondo affidabile decisamente più prudente la posizione dei 5 stelle l'ISIS il califato va combattuto affamandolo limitando le capacità operative intanto arrivano altre notizie da Hannover la nazionale tedesca di calcio prima ancora di arrivare allo stadio è stata portata in un luogo sicuro si parla apertamente da parte dell'autorità di minaccia di un ordigno minaccia esplosiva e ancora si sta però cercando di capire chi come e dove avrebbe dovuto portare a compimento questa minaccia la tensione come immaginate è molto forte è possibile che quella scia di paura che motivatamente ha accompagnato Parigi da venerdì notte faccia in qualche modo il giro d'Europa intanto Parigi cerca proprio di superare lo shock di quella nottata e oggi proprio questa sera siamo andati con la nostra Adriana Bellini dove Adriana buonasera direttore io sono davanti allo Zenit la seconda sala di concerto più grande in ordine di grandezza di Parigi che dopo quattro giorni riapre i battenti sono tutti già entrati migliaia di persone sta per cominciare il concerto dei Simpli Red ho parlato con le persone in fila erano moltissime hanno detto di aver comprato questi biglietti molto prima delle stragi di aver pensato se venire ma poi di aver deciso di non piegarsi a questo ricatto al ricatto dell'oscurantismo fondamentalista dei jihadisti che vogliono colpire proprio la cultura il modo di vivere laico e libero dei francesi qui siamo oltretutto all'interno della Villette un grande parco culturale dove oltre al museo delle scienze naturali c'è anche la filarmonica il nuovo edificio grande edificio che stasera ha staccato altri 3.000 biglietti dunque moltissimi sono venuti altri hanno deciso di non farlo infatti si vendono biglietti a prezzo di saldo 30 euro anziché 45 e questa è una misura che è stata voluta fortemente dal governo quella di riaprire questa sera tutte le sale da concerto tutti i luoghi insomma appunto culturali in modo simbolico appunto per quanto dicevamo prima ma anche concreto perché effettivamente il problema di una Parigi che è vuota completamente non ci sono più turisti il 50% degli alberghi ha visto annullare tutte le prenotazioni e fa paura anche dal punto di vista economico quindi simbolicamente si cerca di non piegarsi ma si cerca anche di far ripartire proprio dal punto di vista economico la Francia Parigi che è stata così gravemente toccata da queste stragi che comunque continua a essere in un clima di tensione altissimo dove continua come dicevate durante il telegiornale la caccia all'uomo di questo ottavo kamikaze ma adesso si è venuto a sapere che ce ne sarebbe anche un altro e questa mattina è stata ritrovata una terza automobile che sarebbe stata abbandonata dai terroristi questo dunque il clima che viviamo in una città che cerca in tutti i modi di reagire di non sottostare a questo ricatto oscurantista del fondamentalismo islamico direttore grazie Adriana Bellini guardiamo in questi giorni alle capitali straniere in tema di terrorismo con speranze timori e notizie che sono pesanti dure come quelle che abbiamo sentito finora ma oggi a Bruxelles si guardava per qualcos'altro c'erano le pagelle per quanto riguarda gli impegni in tema economico dei vari paesi e pensavamo di avercela fatta di aver ottenuto una promozione non era così i vari paesi presentano un rischio di non conformità per questi paesi la commissione prevede che i progetti di piano di bilancio non permettono di essere in conformità immediatamente quindi bisognerà ritornarci quest'anno questi paesi nella sezione preventiva sono l'Austria la Lettonia e l'Italia fossimo a scuola diremmo la legge di stabilità italiana è stata rimandata a settembre ma siccome siamo in Europa il rinvio è ad aprile e da qui a primavera tutto può accadere il ministro dell'economia Padoan oggi si dice soddisfatto per il giudizio e il riconoscimento dell'impegno italiano sulle riforme ma nei prossimi cinque mesi avrà il suo bel da fare per lavorare ai fianchi gli uomini della commissione certo non siamo stati bocciati come altri stati non sforiamo il famoso parametro di Maastricht il 3% deficit da PIL ma la verità è che la nostra legge di stabilità non entusiasma i due commissari economici Dombrovski e Moscovici primo perché ci chiedevano di portare il deficit all'1,8 del PIL il prossimo anno ma il governo lo stima al 2,2 la commissione addirittura qualcosina in più secondo perché nel 2016 il bilancio strutturale non sarà in pareggio come richiesto benzine deficit dello 0,5 e non è detto che su questo l'Italia avrà semaforo verde terzo il nostro governo ha scelto delle misure che Bruxelles non condivide l'abolizione dell'IMU sulla prima casa la decontribuzione per i nuovi assunti al 40% anziché totale e poi i commissari se la sono legata al dito perché Renzi non ha aumentato l'IVA come suggerito e ha messo nel cassetto la revisione della spesa gli stati sono sovrani fanno quello che ritengono giusto canticchiano i due commissari ma intanto avvisano Palazzo Chigi se spendi in deficit scordati di usare quei soldi per coprire il taglio dell'IMU anche la possibilità che sembrava scontata di avere flessibilità di bilancio per premiare gli investimenti è in forza il monitoraggio riguarda anche la clausola di investimenti e quindi a quel punto dovremmo verificare il progetto di bilancio dell'Italia per vedere se la flessibilità richiesta può essere concessa stesso rinvio per le spese sostenute per i migranti come dire non contateci fino a che non le abbiamo verificate vi devo ancora un aggiornamento sull'episodio particolarmente inquietante e soprattutto in queste giornate Hannover ancora una volta la squadra di calcio nazionale della Germania come venerdì sera lo Stade de France di Saint-Denis a Parigi Hannover la partita è stata annullata per il rischio concreto l'allarme concreto di una bomba nello stadio vi leggo testualmente abbiamo avuto un'indicazione concreta che qualcuno volesse innescare dell'esplosivo nello stadio queste le parole del portavoce della polizia all'agenzia ufficiale di stampa tedesca DPA pochi minuti fa la partita era Germania Olanda e un altro particolare non vi abbiamo ancora detto ma certo non di secondaria importanza a presenziare a seguire la partita ci sarebbe dovuta essere anche Angela Merkel la cancelliera tedesca queste sono le immagini che siamo riusciti ad avere ora dall'interno dell'impianto di Hannover quindi le notizie sono queste vi ho già detto che scusate adesso ce n'è un'altra la polizia francese pochi secondi fa ha diffuso la foto di un altro dei membri del commando la fotografia di quest'uomo che però è uno di quelli che si sono fatti saltare in area uno dei kamikaze della sala concerto in cui come si sa è venuta la peggiore carneficina di venerdì sera vi devo però altre due notizie una riguarda la politica i 5 stelle hanno deciso con un referendum online restano le 5 stelle nel simbolo resta la V di vendetta scompare solo la scritta Beppe Grillo sostituita nell'indirizzo web da Movimento 5 Stelle questo da ora è il nuovo simbolo appunto che è stato scelto online da un referendum tra gli iscritti era stato Grillo a dire a Imola nel recente raduno del movimento che voleva che si togliesse il suo nome sarebbe stato il passaggio il salto per il movimento questo è successo attraverso appunto il referendum un'altra notizia quella di un lutto nel giornalismo e nella cultura se ne è andato Mario Cervi a 94 anni giornalista scrittore insieme a Indro Montanelli scrisse la gran parte della storia d'Italia ma prima era stato un grande inviato del Corriere della Sera che abbandonò a metà degli anni 70 proprio per fondare insieme a Montanelli il giornale la sua ultima opera era del 2007 Sprecopoli appunto sugli sprechi della politica dopo di noi a 8 e mezzo c'è Lili Gruber non ho la più pallida idea di chi siano gli ossidi ma adesso li troverò forse non me li hanno dati e quindi ve lo dico dopo la pubblicità tra poco allora vi devo degli aggiornamenti seri su quello che succede a Hannover è stata fermata una persona c'è anche la fotografia forse la si potrà vedere il sito Conflict News la propone a tutto schermo e poi il ministro dell'interno tedesco sta per incontrare la stampa per informare sull'accaduto riguardo alla minaccia di una bomba a quanto pare la polizia ha scoperto un camion che era un carico di esplosivo ed era dissimulato come vedete era travestito diciamo così come se fosse un veicolo di trasferimento vicino al campo di calcio allo stadio di calcio di Hannover queste le ultimissime notizie vedremo di che si trattava se era psicosi o se davvero c'è stato il rischio di una nuova azione di un nuovo attentato terroristico in uno stadio calcistico questa volta a Hannover dopo di noi il ministro agli esteri gentiloni e l'ospite di Lilligruber a otto e mezzo insieme al generale Mario Arpino e a Paolo Magri ovviamente padrona di casa Lilligruber poi a dimartedì gli ospiti di Giovanni Floris c'è Laura Boldrini c'è Angelino Alfano c'è Roberta Pinotti c'è Marco Travaglio ci fermiamo a domani a domani a domani a domani